Musica Benvenuti a Quotidiano Medicina News, tutti i giorni la notizia del giorno, vediamo qual è il titolo di oggi 14 cibi pericolosi per la nostra salute provenienti da altri paesi, la lista formulata da Coldiretti Dunque in prima posizione troviamo il prodotto ittico spagnolo, però solo quello pescato negli oceani in quanto il pescato risulta contaminato dalla presenza di metalli pesanti a causa dell'inquinamento Al secondo posto abbiamo i prodotti dietetici e gli integratori provenienti dagli Stati Uniti a causa del contenuto di ingredienti non autorizzati nell'Unione Europea In terza posizione gli arachidi dalla Cina in quanto contengono aflatossine oltre i limiti In quarta posizione abbiamo i peperoncini dalla Turchia in quanto nella coltivazione di questi alimenti sono stati utilizzati pesticidi oltre il limite di guardia In quinta e sesta posizione troviamo i pistacchi dell'Iran ed i fichi secchi della Turchia sempre a causa della presenza eccessiva di aflatossine Settima tra gli alimenti pericolosi per la salute troviamo la carne di pollo dalla Polonia a causa di contaminazioni di natura microbiologica, in particolare la salmonella In ottava posizione le nocciole prodotte sempre dall'Urchia a causa dell'eccesso di aflatossine riscontrate e sempre per lo stesso motivo in nona posizione abbiamo le arachidi prodotte negli Stati Uniti e di pistacchi provenienti dal paese della Mezzaluna in quanto non conformi ai requisiti di sicurezza Infine in questa lista nera troviamo il peperoncino dall'India, la noce moscata dall'Indonesia contaminate da aflatossine e salmonelle oltre i limiti le albicocche secche dalla Turchia per i solfiti oltre i limiti e le carni di pollo dai Paesi Bassi a causa di contaminazioni di natura microbiologica